Buon salve e benvenuti al riassunto dell'inside Star Citizen del 4 novembre, dell'11 novembre, iniziamo subito. Non sempre i lavori di raccolta di risorse sono divertenti in un gioco, Star Citizen si è dato l'impegno di cercare di rendere questi mestieri divertenti proponendo sfida e rischi. I gadget per il mining in arrivo nella 316 si configurano come strumenti consumabili che rendono possibile ad un minatore capace di minare grandi rocce altrimenti non fattibili con la Prospector da sola. È un tentativo della SIG di dare un aiutino per chi non vuole giocare in gruppo. Ovviamente questo aiutino non è privo di costi e rischi, i gadget avranno un costo, bisognerà scendere dalla nave per applicarli e fare il minigame per sincronizzarli alla roccia e infine riuscire effettivamente a minare la roccia. Soprattutto il fatto di dover scendere dalla nave rappresenta per la SIG il grosso rischio perché il giocatore sarà completamente indifeso e anche cieco da eventuali attacchi nemici. Ci saranno svariati i gadget, ognuno capace di alterare le statistiche della roccia in modo differente. Il minigame è molto semplice, bisogna usare 3 barre per far corrispondere la lunghezza d'onda della roccia con quella del gadget è molto immediato. Il prossimo passo per il team sarà quello di far funzionare lo ship refinery, ovvero prendere navi come la Starfire e usarle come navi da raffineria sul luogo per fare tutto il logo senza passare per le raffinerie delle stazioni. Questo segnerà in teoria anche il completamento teorico del gameplay loop del mining. Hanno fatto vedere dei concept per il logo della Gilda dei Mercenari, hanno scelto il primo. La Vulture and Kaybox sta venendo su bene, dai. Stanno aggiornando le texture dei volti dei personaggi, rendendoli più realistici e naturali. Mancano le sopracciglia perché vogliono inserirle come elemento aggiuntivo e non come qualcosa di direttamente presente nella texture. Hanno mostrato l'armatura delle guardie di Arston, per chi non se lo ricordasse, nel 2018 avrebbero dovuto creare questa armatura partendo dai concept, ma non se n'era più fatto nulla perché al tempo era complicato gestire cappucci e elementi extra. Ora hanno risolto, arriverà nel più su un team e ovviamente sarà luttabile se vi mettete ad uccidere grazie dell'Arston Security. Hanno mostrato graffiti che saranno presenti su Pyro e saranno collegati alle gang di Pyro. Stanno ancora cercando di definire il giusto mood per le gang. Sono ancora in esplorazione. Stanno ragionando anche sugli esterni delle stazioni di Pyro, stanno in fase di concept molto vera scartato o utilizzato per altro. Il secondo, Inside the Star Citizen, è stato interamente dedicato al combattimento spaziale. Dove siamo? Cosa hanno fatto? E cosa è previsto per il futuro? Hanno analizzato le versioni di gioco passate per capire cosa funzionava e cosa no. Hanno studiato il lavoro di John Boy, pilota e consulente del Pentagono negli anni 60. In particolare gli Oda Loops sono particolarmente importanti per la CIG. E hanno parlato anche con parecchi esperti, ex piloti di aerei militari e compagnia. E hanno anche preso lezioni di dogfight su simulatore di volo da ex piloti della RAF. Ci sono state delle riunioni per focalizzarsi sul combattimento PvP. È importante che il giocatore possa fare delle decisioni impattanti durante il combattimento e che abbia le informazioni necessarie per prendere queste decisioni. Che ogni arm e veicolo abbia un suo scopo specifico e il tutto deve essere credibile. E infine vogliono cercare di non creare un meta, cosa che non è molto semplice. Per la 314 avevano lavorato molto nel far sì che ogni nave rientri un archetipo, in modo che non ci fosse una nave capace di fare bene tutto. Hanno lavorato sull'esperienza multi-crew, le armi sono state divise in due archetipi, anti-fighter e anti-capital. Gli scudi in A314 erano stati semplificati, appiattiti quasi. E infine la patch vide l'introduzione dei condensatori, la barra dell'energia per le armi laser. Una cosa che vogliono reintrodurre è l'impatto della forza G sul pilota. Vogliono anche aumentare gli archetipi delle armi in modo da aumentare varietà, introducendo armi adatte a distruggere missili, ad uccidere fanteria, soppressione e anche armi adatte un po' a tutto, ma mediocre in tutto. Nella 3.15 hanno ricominciato a differenziare i vari scudi. Rispetto a prima i vari scudi hanno minore differenze nello stesso size, perché dovrebbe essere l'abilità del pilota e non la build a contare nel PvP. Per il triangolo dell'energia portare il triangolo a zero per uno o due elementi non renderà questi impossibilitati a rigenerare completamente la propria energia. Inoltre il triangolo dell'energia dovrebbe incidere anche sulle torrette. Per il volo patch dopo patch andranno a sistemare le attuali problematiche, ridurre alcuni valori di compensazione che hanno introdotto rendere le navi più divertenti da guidare. Nella 3.15 è possibile far sì che l'indicatore TVI, quello che indica dove sta andando la nave, sia sempre attivo. Hanno ribadito che lo scopo finale è un gioco divertente e non necessariamente realistico. Una cosa che voglio introdurre in futuro è l'IFCS Trimming, che aiuterà particolarmente coloro che pilotano con il dual stick e chi guida in decalpole in Tria. Da quello che ho capito, questo sistema fa sì che un determinato input diventi il punto zero per gli input di movimento successivi, quindi uso questo sistema per far sì che il punto zero sia magari un leggero movimento in avanti. La nave costantemente andrà leggermente in avanti e i miei input successivi saranno calcolati su quel valore iniziale. Questo è quello che ho capito io, ma non sono sicurissimo. L'auto Gimbalz è stato fixato nella 3.15, ma il team non è contentissimo della feature, perché bypassa la skill sostanzialmente, vedranno in futuro cosa fare. Nella 3.16 le armi del pilota potranno sparare Staggering a gruppi, quindi non varrà per tutte le armi. L'auto Torrette stanno ragionando sul baffare le torrette senza baffare le armi sulle torrette, questo per rendere più incisive navi come la Hammered, vedranno. Lungo termine l'idea attuale di reintrodurre una modalità di volo ad alte velocità, voglio inserire una gestione delle armi balistiche, ma dipende anche dal danno fisicalizzato. L'interfaccia per l'uso degli AMP, voglio inserirla in futuro e voglio anche in futuro inserire il FLAC. Voglio anche migrare l'IA per le manovre, ma voglio anche far sì che l'IA bari di meno. Attualmente non gestiscono le munizioni, per esempio. Infine hanno ribadito ovviamente che il feedback del giocatore è molto importante, che per esempio i post su Spectrum, anche se non rispondono a tutti, li leggono sostanzialmente tutti. Va bene, è durato tantissimo. Qui è Marco Sass, qui è tutto, e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!